Finalmente arrivò l'ora di ripartire. C'era un nuovo controllore e lei si avventurò a chiedergli quanto mancasse per Roma. Lui alzò gli occhi e roteò le mani come per indicare un tempo nemmeno misurabile. Se tutto va bene, in quattro ore saremo a Firenze. Il resto è nelle mani di Dio. Lei ebbe un momento di sconforto, ma l'intestino la salvò, richiamandola ad un'urgente ricerca. Raccolse i suoi pochi bagagli e si avviò. Il treno non era pieno e si poteva camminare per i corridoi abbastanza agevolmente. Dopo qualche vagone vide che le carrozze cambiavano. Sapeva che esistevano la seconda e la prima classe, ma non le aveva mai viste dall'interno. La seconda aveva sedili morbidi ed imbottiti e schienali un po' gonfi, per poggiare più comodamente la schiena. Si chiese come doveva essere viaggiare così coccolati, senza preoccuparsi del prezzo. In testa al vagone c'era il servizio. L'aspetto era molto migliore di quello di terza classe. Lei si guardò attorno e poi, in fretta, procedette all'operazione più impellente. Si lavò le mani e avrebbe anche voluto bere, ma vide la scritta minacciosa acqua non potabile e rinunciò. Uscendo non c'era ancora nessuno. Procedette nella sua esplorazione, intanto che il treno si arrampicava lentissimo sugli appennini. Finalmente arrivò al vagone di prima classe. Lo percorse due volte e constatò che era completamente vuoto. Chissà quanto costa, pensò, mentre osservava i sedili larghi e ben distanziati fra loro, in modo che ci fosse molto posto per distendere le gambe. La copertura era di velluto verde scuro e le parti in legno visibili erano lucidissime. Dove si doveva poggiare la testa c'era un'imbottitura speciale, coperta da una tovaglietta bianca ricamata, con il simbolo delle ferrovie. Tra un posto e l'altro, delle sporgenze, anch'esse imbottite, consentivano di accomodare la guance su morbido tessuto. Dietro ogni sedile, uno specchio immacolato. Come saranno i gabinetti di un vagone così lussuoso? Fu la domanda che le sorse spontanea nella mente. Non faticò a trovarli. C'erano persino salviette di stoffa ed un distributore di sapone profumato. Lei controllò i corridoi fin dove arrivava la sua vista. Non c'era nessuno. Fece buon uso di quel che le veniva gentilmente offerto e poi, più rilassata, tornò al proprio vagone. Ormai si era affezionata al posto. Era da lì che aveva salutato la mamma, la zia ed i fratelli, venuti ad accompagnarle in stazione. E quindi era legato a loro. Il treno stava ora discendendo verso Pistoia. E pareva aver preso un po' di coraggio. La catena degli appennini le aveva ricordato i monti di casa e se n'era sentita confortata. In fin dei conti, l'Italia è tutta uguale. Riuscì persino ad appisolarsi. Non c'era molta gente in giro e un altro controllore si fece vedere una sola volta. Con marcato accento toscano, le chiese come mai una ragazza come lei, viaggiasse da sola. Lei non si lasciò intimidere e ribatté. Mi aspetta mio marito. Ma se non ha la fede? La devo portare ad allargare. Appena arrivo. Mi faceva male al dito. Oh! La fede o il matrimonio? Beh, se vuole può chiederlo direttamente a mio marito. Ne risponderà volentieri. Mi aspetta in stazione a Firenze. O lei prosegue per Roma. Cosa? No! Io a Firenze termino la mia tratta. Ma perché non vuole dirmelo lei? Me lo ha raccomandato Annibale. Mi ha detto di non dare confidenza agli sconosciuti. Sa, lui è esperto. È un maresciallo dei carabinieri. Lui la guardò ancora un istante. Indeciso se crederle. Ma giudicò meglio non rischiare. Buon viaggio! Le disse e se ne andò rapidamente per i fatti suoi. Grazie a tutti.